red market cortometraggio sul traffico d'organi e sul gioco d'azzardo un progetto tutto lucano che conferma la basilicata terra di cinema parliamo ora di cinema è realizzato interamente in basilicata red market cortometraggio sul traffico d'organi e sul gioco d'azzardo un progetto che conferma la vocazione cinematografica della nostra regione igorubolti aurelio è interpretato dall'attore gabriele grano è un chirurgo ed è un giocatore d'azzardo come tutti i ludopatici è convinto che vincerà ma perde perde sempre per uscire da questa situazione dovrà optare delle scelte e dovrà rinunciare a quei valori etici che ogni medico deve rispettare come il valore della vita e quello della salute in pratica finisce nel giro del traffico internazionale di organi il cortometraggio interamente made in lucania red market vuole così puntare il riflettore su due tragedie organi a pagamento e dipendenze dal gioco ci sono dei dati allarmanti il traffico illecito di organi genera addirittura un guadagno di oltre un miliardo di dollari è un singolo organo come può essere la vendita di un rene genera un guadagno che va dai 70 mila agli oltre 100 mila dollari allo stato attuale il film sarà distribuito nei festival sia italiani che internazionali per cui ci auguriamo di poter raggiungere come dire lo stesso successo che abbiamo ottenuto con le ultime produzioni targate voce spettacolo alter nicoletti veicola questa denuncia tramite la sua casa di produzione con sede a matera altro esempio virtuoso di come in basilicata l'industria dell'audiovisivo affonda radici sempre più diffuse nel mondo della creatività soprattutto in quello dei giovani da hollywood dalle grandi fiction alla sperimentazione art house il passo è breve un business ma a differenza del traffico di organi un business virtuoso a